Armato di ascia ha fatto irruzione in un bar di Sansepolcro a 40 chilometri da casa sua e si è scagliato contro tavolini e sedie. Una scena surreale ed ancora incomprensibile ma che ha destato l'allarme dei presenti che hanno chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. Si tratta di un quarantenne già noto in città per aver creato altri disordini. È successo nei giorni scorsi. L'uomo è arrivato a Sansepolcro con l'autobus perché in passato i militari gli avevano già ritirato la patente. Una volta in città con un'ascia nascosta nello zaino ha distrutto sedie e tavolini ed opposto resistenza. All'arrivo dei carabinieri ha anche cercato di usare l'arma contro di loro, poi ha tentato la fuga a piedi e alla fine è stato bloccato e ammanettato. L'intervento dei sanitari della Croce Rossa ha poi permesso di accertare come l'uomo si trovasse sotto l'effetto di un mix di farmaci ansiolitici ed alcolici. Sedato e ricoverato in ospedale per diverse ore è stato dimesso ed infine portato in carcere e ad Arezzo. Dovrà rispondere adesso di resistenza fisica e aggressione a pubblico ufficiale. Dovrà rispondere adesso di resistenza fisica e aggressione a pubblico ufficiale. Dovrà rispondere adesso di resistenza fisica e aggressione a pubblico ufficiale. Abbiamo tempo per pirタ puesto. Abbiamo tempo per ricordare 함 slickere la posizia!